Musica Dopo l'incidente mortale della notte lungo la 22, vittima una donna di ravina, udienza per direttissima e arresto convalidato per l'uomo alla ruida di un SUV positivo all'alcol test, i particolari da Massimo Mazzalai. Il presunto responsabile dell'incidente è agli arresti, la vittima è Maria Nives Ferrari, 78 anni, nata a Riva Maresidente, a Ravina. L'incidente è sulla corsia nord dell'autobrennero a Trento Centro, semidistrutta la Citroen della donna, su di lei è piombato il SUV condotto da Michele Veronesi, 37 anni, di mezzo corona, agente di commercio nel settore dei legnami. I soccorritori hanno trovato la donna fuori dall'abitacolo, stesa sull'asfalto, e su questo particolare sono in corso accertamenti. Secondo la ricostruzione della stradale, Michele Veronesi, dopo l'impatto, è fuggito a piedi. Una patuglia dei carabinieri lo ha bloccato sulla rotatoria dopo l'uscita del casello. L'uomo è stato arrestato per omicidio colposo e omissione di soccorso, ed è risultato positivo all'alcol test, un indice di 1,4 il triplo del consentito. L'uomo, osservano gli inquirenti, ha già dei precedenti per guida in stato di ebrezza. Licia Scaglierini ha disposto il processo per direttissima. Il giudice Giovanni Dedonato ha convalidato l'arresto ai domiciliari e rinviato l'udienza al 30 aprile.